come si fa? ah cambia skin eccolo qua eccolo oddio sono fatte bene io non sono un esperto di minecraft però ok ok l'ho fatto ma cosa deve decidere lei io ho preso la seconda quella del tipo incappucciato ah questo qua giù quello vestito d'oro è giovane vai vai madonna sta armatura che c'è tutte le cose del ragno è stupenda eh non lo so adesso appena entra se dico non lo so non lo so spaccatuto 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 eh non mi è arrivato no ecco si eccomi sto entrando la 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 pipi calze lunghe dio hai messo l'audio ora la chiamo parte 2 ok ci siamo ok ok ma io ora ho messo anche carica il telefono quindi c'ho anche un attimo ok 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 potenza 12 eh vabbè perchè 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 a casa è entrata ma è lentissimo guarda no ma con le lente non so no no secondo me fanno schifo con le lente eh io quelli sto sanno infatti un attimo che devo mettermi la live ma perchè mi dici che non sono in live ah no ecco ok a posto eh vai io i tuoi stessi mi sa ah no tu gli uncini ho questi a te danno 10 a me danno 12 allora comunque a trovare qualcosa di lato no eh cioè oddio no in realtà che abbiamo hai trovato l'armatura leggendaria io c'ho l'armatura unica ah ma perchè c'è normale 1 che è 0.4 difficoltà normale 6 0.6 e dopo c'è normale 3 che la potenza consiglierà che è la difficoltà normale cioè potenza 3 come se fosse normale ah ok ok vai ammesso ok pascoli di zucca rifacciamo vediamo qua non abbiamo possiamo trovare di tutto qua non abbiamo trovato ancora nulla ma comunque non stiamo più trovando cesse che ci danno armi eh mmm allora qua potremmo avere dei problemi perchè io tu per esempio non sei all'altezza perchè il potenza della squadra ci dovrebbe essere scritto no c'è scritto 10 quindi tu sei livello 9 quindi non so quanto tu possa andare bene invece io sono super io invece sono avanti perchè ho 11 e poi devi ma perchè come fai esso avanti e perchè io c'ho l'arco da tipo 12 e la cosa da 12 e dopo ciò quello da 10 e quello da sempre 12 e mi è iniziato il sceme come fai lei ha trovato 27 armature io prima io avrei anche un'armatura migliore di quella che ho io che da 13 però no la metto è quella la è quella che avevi tu prima prima di quella del ragno è potenziale da 13 solo le abilità non mi piacciono tantissimo quindi al momento mi tengo la mia che è molto forte guarda meno male che gli oggetti non si rompono meno male che gli oggetti non si rompono perchè sennò sarebbe stato un problema ma quante figole con l'armatura ragazzi va andiamo allora io mi sono azzardato e ho guardato l'altro giorno ieri per vedere com'era il gioco ahia no allora ho visto che ci sta il prossimo hai pensato quello della miniera che abbiamo fatto prima ci sta un po' successivo che tipo una roba è difficilissima quindi preparati ok allora lei si spoilerà tutto ma no ma ho guardato un pezzo per vedere com'era il gioco è è io io non gioco più con lei e non tocare madonna c'è il librone che mamma mia il librone non vedo allora che esplode madonna il cubone fai danni grossi fate che il far è il farone però un cubone ancora li abbiamo ammazzati questi aia ma compagno delle questa qua fa comparire delle colonnine e dopo compagno tipo delle cose che esplodono delle colonneee dai do ma c'è qualcosa qua? no no credo che non ci siano tipo i segreti tipo così dietro la nave purtroppo non ci sono queste cose sarebbe stato finito ci sarebbe potuto ci dargli più la mappa eh infatti ma li metteranno dal primo giorno ah beh occhio allora questa tizia fa comparire allora fa comparire delle fa comparire tipo delle colonne che intrappola nelle colonne e dopo fa comparire cosa che esplode qui se rimani dentro muori madonna cioè se rimani dentro dopo fai delle colonne che ti distruggono oh distruggi divment penso si a cimento a me non me la date la divment ho raccolto mille smeraldi parca lei è una scimmia cappuccina potere del cubone che hanno massacrato madonna ma cosi sono troppo forti ma hanno fatto malissimo ma hanno fatto malissimo ma hanno fatto malissimo oddio l'ho finito usa le frecce è vero ma non colpire me il mio ne fa un sacco di frecce c'ho l'abilità che le frecce che le crea aiuto a occhio più di scheletri attenzione il ciambellano guarda qua a a a a a a a s ciambellano come dove è è mia aiuto le frecce oh madonna aiuto fammi vedere sta armatura 12 ma per me il farone non è tanto buono 35% riduzione dei danni più 30% danni corpo a corpo ah vabbè con le spalle madonna più 30% è tantissimo cioè 30% è tantissimo lo devono liberare un pollo no c'era uno zombie che stava sopra il pollo aiuto no ecco qua ecco sorella vai faccelo così no questo uccidilo subito morto aia vai aspetta che qua c'è una cassa ok abbassa il porto il vasoio oddio no in realtà non è male effettivamente eh solo che dura poco aia aia ma conta che noi lo abbiamo anche con conta che noi lo abbiamo comune è vero anche quello quindi le anime ce le fottiamo ho salvato il culo t'ho salvato proprio forte t'ho salvato ma fanno malissimo gli scheletri prendo io vai come si fa qua altri ma quanti sono ma che hanno distrutto mi aiuti e guarda quanta gente c'è onestamente è arrivata la notte ci penso io è arrivata la notte vai uff bisogna tirare l'altra bisogna tirare la leva bisogna tirare la leva l'altra l'ho tirata l'ho tirata l'ho tirata vai scappa 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 fuga 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 attento attento scaletto genna di el genna di el c'è la cassa la mucca pecora potere del libro il cubo fai il racconto facetti c'è potenza 10 ho dei super facetti più potenti aiuto ma io che ho trovato un arco leggendario ecco serpente rosso eccolo la e vabbè e vabbè mi senti ti senti scoppiare tutto porco schifo 39 di danno ma siete matti ma devono calibrare i poteri ok madonna evocatore 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 scappa oh madonna ma cosa fa l'evocatore e vabbè scappa no sono morto c'è troppa gente no ma quante gente c'è guarda qua guarda dietro di te aiuto 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 madonna sembra ben il cubo che corre tutti gli altri dietro aiuto madonna la notte la notte eh vabbè tutti sono caduti sd ecco rialz cacare mi senti oooψ mi senti ma mi senti ok rialz uccidilo uccidilo ma no io ho già distrutto guarda è già morto io c'ho il TNT tiraglielo eccolo no si è spostato l'ultimo secondo l'ho ucciso l'ho ucciso è morto è morto ahia muori è morto la spada è mia leggendaria ma come la spada leggendaria a me non ha dato nulla no 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 io non ce l'ho a me non mi ha dato nulla a me ce l'ha detto che ti ha dato la spada ma a me non mi ha dato nulla che falzo no a me non mi ha dato è falzo c'è un silvestro chissà se sto gioco qua si può giocare si può giocare 97 online si che si può fare online cross platform non lo so non lo so no vabbè ma il mio è potentissimo cioè se fai la carica massima fa 97 no il mio è il mio non è granché ma tutte armi basse cioè ce le avrei quelle potenti ma sono lentissime eh mi conviene tenne queste no ma intrappolato i ranni maledetti ma aspetti penso che abbiamo finito eh ci vi faccio scoppiare scorte 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 no non abbiamo finito dove sono lì aspetta si c'è dato le scorte non penso che abbiamo finito lo stanno di qua più avanti ma non capisco da che parte è più indietro di là aspetta che mi teletrasporto scusa scusa frecce in basso guarda che sto davanti a te sto davanti a te sto davanti a te stavo davanti a te eh ma dove ah eccone qua frecce in basso se prendi frecce in basso ti apri la mappa ah ok no basta che poi c'è guarda boom boom e tu c'è carica massima fa tipo ho 116 116 carica massima madooooooon ora quanto so ora c'ho 13 di potenza aiuto non vedo niente c'è l'albero cotta di maglia ma è più debole di quella che ho la cotta di maglia ma che sono morti non devi continuare a sparare no ok mi so ma non sono ma non muoiono ma non muoiono anche l'arco un po' lento è mio eh ora che lei è statissimo eh io non avrei uno potente ma devo usare questo che è più veloce ma tanto io pure se faccio veloce cioè guardi se faccio così faccio 32 non è veloce come il tuo però eh io ne ho uno potenza ho delle armi potenti ma sono tutte lente quindi non le uso quanto è qua che c'è una cassa c'è una cassa una cosa ok oh siamo arrivati qua c'è la fine c'è la fine c'è la fine c'è la fine ok c'è ma le xi nombrate happening nię vado a loro الivo fatto il macello questo minuto oh ho fatto il mattino accube e scoc Neigh no 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 finito le anime aiuto E' pure l'avvocatore Corri No sono morto Sono morto Sono morto Sono troppo Aiuto Ci provo Guarda schiavvocatore E' uccisi Guarda schiavvocatore No ma io sono morto Cioè io ho pochissima vita Devi ucciderlo tu un attimo io mi devo curare Non mi sia ancora fatta la pozione Mi servirebbe qualcosa per E' diminuire il tempo della pozione Perché ci mettono E' vero E' vero il totem 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 Ok ci sono ci sono Sono operativo E' potentissimo Eccomi E' troppo forte E' troppo forte E' troppo forte E' troppo forte Cacchio 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 E' l'ultima vita Dov'è sto avvocatore? Qui Guarda quanto li faccio Cacchio E' troppo forte Eccomi qua Ma è che l'ho ucciso La mia mia ha troppo potente No ma è che il mio arco Illegale io con un colpo Li doiamo metà vita No ma è che il mio arco è totalmente illegale Comunque non capisco il fatto di mettere così tante cose Se c'è a me ora mi ha dato l'achievement completa Palute E' questo qua Quindi volevo dire che questo era quello che c'era dopo palute Dopo dovevamo fare tutti gli altri Non ho capito perchè le hanno potenti fare che potete fare pure gli altri Secondo me era meglio che potessi seguire la trama Se no uno non capiva poi Andaci Vediamo la cesta Stavolta non ho preso tanti smeraldi Vediamo Piuma leggera Che figo Anche a me mi ha dato quello Ti permetti di rotolare in aria Stordendo e spingi i miei nemici lungo il percorso Senti io mi tolgo il mio scudo Che tanto non serve a nulla Gli nemici poi ci possono entrare lo stesso Ma io ho 5 punti Allora fammi vedere Io volendo potrei cambiare l'armatura Io potrei cambiare l'armatura Allora mi metto questa Lo so veramente è brutto questa armatura Questa però è unica mannaggia Senti io mi metto armatura dello speologo è fortissima Cioè 13 c'è Ma st'armatura è molto meglio Da mi tengo st'armatura E la potenzio pure Incantesimi Ho potenziato vai Poi mi potenzio anche l'arco A posto Ora sono potentissimo Ma ora ci può Mercante raro Che è lui Un manufatto? Eh sì però Mi ha dato niente No io mi prendo Oh balestra pesante No ma in realtà a me no Una non mi serve a trovare un altro arco Da io continuo a comprarmi questi Arco a trucco A 16 di potenza Vabbè il mio arco è sempre migliore però Wow No ma il mio arco è fortissimo Cioè io questa armatura qua è fortissima L'armatura che c'è Vabbè dai andiamo 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 Ora possiamo fare Tecnicamente ci mancano tre missioni Facendo il tempio del deserto Sblocchiamo l'ultima missione penso Però forse anche facendo forze Vabbè cosa vuoi fare Prima forge infuocata O prima tempio del deserto E' uguale Perché secondo me la storia era Foresta dei creeper Palude umidizia Pascoli di zucca Canyon cacti Minire di pietra rossa Dopo forge infuocata Tempio del deserto E' aperto e dopo l'ultima missione Vai facciamo forge Forge infuocata Vai 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 Lo potremmo fare pure a difficoltà 5 No però non siamo all'altezza di fare la difficoltà 5 Dai facciamolo sempre a 3 Facciamolo sempre a 3 Ok Forge infuocata Forge infuocata Mmm vedo già un boss da dietro No ma il mio arco Io ti giuro il mio arco è illegale C'è c'ha un miliardo e mezzo di danni fa Solo che non ha tante munizioni Ed è lento Ed è lento Però è veramente troppo forte Però non è lentissimo Cioè Se spammi fa comunque 36 Cioè se fai carica massima fa tipo 126 116 Dai 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 Però mi mancherà separarmi dalla mia armatura unica Però questa è più forte E' brutta E' più forte Ma ora quanto c'ho ora? C'ho 14 potenze Se io mi metto qua 14 Ah aspetta no se io mi metto questo Ok Ok Dai mi tengo questa Ma andiamo Madonna Cominciamo già male Ecco No 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 Ehm 22 Si è fatto 22 Madonna La fermatura è forte Ma quanti sono? Ma quanti ce ne sono? E' malinissimo eh Madonna Madonna La stagione è gigantesca Ma cosa serve? La piuma? Eh faccio una speciale capriola strana Stradale Ah è vero è vero E' vero è vero Ah è vero E' vero E' vero E' vero no ma è che sono troppi sono tantissimi eh c'è il cubone usi il cubone ma non li facciamo male ma perché io sono morto ma non so il perché guarda sono tutti con l'arco sono c'erano tutti l'arco vado ma don da quanti ne arrivano atti mi stanno spaccando ma sono troppi mike ma c'è questo che dà vita a questi ma poi c'è quello che li fanno diventare immortali quelli con i primi fanno diventare il mostro morto no non morì noi sono morti che abbiamo passati quelli con libro se li lasci troppo tempo praticamente danno vita ai compagni eh porca miseria rimaniamo qua che ci dà della vita cioè li dobbiamo abbassare subito quelli con libro sono troppo forti ok appunto vedi che li ha tipo quella striscia quella da un sacco di roba vai andiamo è morto si è morto ma fanno malissimo sono morto sono morto sono morto sono morto ok mi ha dato un super mega raccone aiuto aiuto ma è che te li sto portando tutti aumenta di livello no vabbè mi ha dato delle frecce potentissime 29 senza caricare un arco 29 senza caricare non ho più frecce eppure ne ho 20 io ho potenziato ancora di più il mio arco però dove trovare un'arma corpo a corpo miglio ho trovato di ho trovato un martello è lento aiaaa si ma fanno tutto male quando l'ho provato eh ha fatto la difficoltà troppo elevate eh ma ci danno un bottino grande eh ho capito ma bisogna andarci con le armi giuste eh ma a me diceva che eravamo abbastanza forti ma guarda che stiamo leggendo lo scontro ma non è nemmeno troppo troppo no vabbè mi rimetto le mie cose che ce l'ha anche potenti mi metto grossi ma dobbiamo andare di qua di qua eh che c'è perché dobbiamo fa qua ah ok di qua scorte 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 prendo tutto io si ma mi ha dato 26 frecce cosa me ne fai io di 26 frecce io ho 73 eh ecco 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 da qua madonna lo devastato con un freccione caricato mi sto caricando mi sto caricando ma dove sta sto tizio che tira le colte aiuto ho fatto 214 c'è pazzi golemiche è cala è cala è cala è cala è cala l'ho preso l'ho preso quella che ti ho preso oh no dov'è 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 è qua ma io lo distruggo io li faccio male però me lo devi distrarre me lo devi distrarre me lo devi distrarre eh se riesco c'è guarda io lo distruggo però se mi viene da su non posso fare tanto io li faccio male ok madonna di giro 57 di danno la volta io 214 madonna di qua dobbiamo andare 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 madonna quante esplosioni oh cacchio ho trovato un arco fa schifo scorte oddio quanti ma voi siete malati di mente ma non da quanta gente ma ci sono gli scheletri strani si ma fa malissimo quel coso lì uccide tutti gli stregoni vai andiamo da moridizio ok dobbiamo andare di qua madonna si apriamo questo posto è gigantesco ma aspetta qua abbiamo saltato un posto dove si può entrare fermo qua si può entrare torna indietro abbiamo saltato un posto ma dovuto si apri la mappa una porta qua eh ma anche da te c'è un'altra andiamo in questa tua andiamo in questa tua andiamo in questa tua andiamo qua andiamo qua cos'è vai è tipo una boss fight eh vabbè eccola dai ho trovato un altro che martello ho trovato armatura che armatura questa quanta potenza da 15 madonna 15 di potenza 15 di potenza madonna andiamo nell'altra grotta allora dove sta aspettami che non ho più la corsa e qua e qua e qua e qua qua mi sembra peggiore cosa è sta roba ecco 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 porca se magari non mi fa trovare un martello se magari mi fa trovare delle armi decenti un'armatura decente sarei felice visto che mi ha fatto trovare un altro martello ah io non ho freghe ma perché a me ogni tanto mi si paga la corsa e me lo fa da solo ma no martello ma non ci sento mi si paga uh colta rinforzata ah abbiamo usato ok madonna gran martello è la tua stessa armatura vai andiamo ora c'ho 15 di potenza eh vabbè io c'ho 13 tento ma quanto fa male quella cosa che tira eh meglio che non attivarli infatti eh ma lo dobbiamo fare lo attiro lo attiro attivato tieniti c'è un golem aiuto padonna quanta gente mamma mia come fai io qua aiuto voglio quanta gente no c'ha più vita il golem il golem ha più vita ha molta più vita ma veramente tanta più vita ma io non ho frecce no 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 oddio è fortissimo è anche veloce cacchio no 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 sono chiuso sono chiuso all'angolo sono chiuso mi ha chiuso no no se è incastrato no no io sono madonna sto morendo ma con l'ho dato un martello leggendario 17 vabbè è lentissimo è inutilizzabile a me sai cosa ha dato a me ha dato un arco da 15 una spada si leggendaria spada del ballerino vabbè ho capito ma basta eh vabbè no io non ci gioco con lei quanto c'è amo eh adesso c'ho 14 si ma come si fa gioca con lei la spada del ballerino a me mi escono sempre le stesse cose mi è uscito due volte il martello ma come ti faccio nel martello eh anche a me mi ha dato un martello potentissimo ma è lento aiuto eh oh una sciabola che avevo appena trovato pure io sciabola da no mi si è bagato almeno ma è lentissima pure questa si ma si può si ho trovato allora ci sono un tizio è uscito la sciabola e forse ho trovato la stessa sciabola ma come si fa la roba del ballerino il livello 17 eh vabbè io che lei non ci gioco più ma si può la roba del ballerino cioè guarda ho trovato un altro arco è anche livello 19 ma indovina io avevo un arco che era livello 19 ma dov'è andato lei non lo vedo più ma io veramente guarda sono uscito dalla eh ma si fuori non c'è un'arma di gente che io c'è tutto comune cioè io sto andando avanti da con le spade comuni ma si può eh io so sta roba qua ma è lenta pure questa eh eh questo è lento spada 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 questa qua del ballerino è lentissimo è un po' lente dai ma aspetti dai sono pronta a trovare un'altra cagata no vabbè dai non ci posso credere un altro arco potente o più ma io mi sono stufato aspetta aspetta dov'è non me l'ha dato dov'è arco potente non me l'ha dato allora togli quella togli quella aspetta dov'è arco potente ma io veramente non me l'ho dato non me l'ho dato non me l'ho dato ma che cacchio vuoi sapere quanto faceva vuoi sapere quanto faceva eh e meno me l'ho ricordo perché l'ho appena torto faceva era tipo no in realtà era forte era forte però c'è dai cioè io ho trovato io ho trovato solo archi solo archi trovo io ho trovato un sacco di archi forti e si accontenti c'è trovo archi che ho già trovato ah si trovo archi peggiori di quelli che ho si accontenti si peggiori di quelli che ho proprio ma una spada unica no eh eh credo troppo ma il carattolo ha dei 3 eh è finita tutta la roba buona ma quello era ciao si ma guarda è pure fortissima quell'aero ma quella è la cosa bella aiuto aiuto si ciao adonna ci ho dato giù di librone di cubone oh no da dove li tirare più avanti si un arco c'ho potenza 15 adesso siiii no vabbè dai no non ci credo non ci credo ho dato due archi un pari di fila no basta no guarda ma si può avere così tanta sfiga nella vita mi piace sto gioco mi piace sto gioco mi piace un culo ahhh ahhh vabbè io c'ho l'arco da 19 però madonna chi è che ho fatto quella mossa lì aiuto aiuto guarda quanti frecce c'ho addosso un porco spino l'ho diventato uno spino porco oh no a thigh ti prego una acqua corpo docente ti prego ma ci vuole tanto ehh golem di metà rossa ciao Vado egli sto che c'è le aree superpotenti Eh io non ho frecce Muori Mi ha buttato giù Vabbè L'ho ucciso Non ha trovato nulla Un arco Io ho trovato un arco Ma basta Ma che cos'è oggi No Ho sbagliato Vabbè Tra le sue ceneri Ma grazie a Dio che ho sbagliato Tra le sue ceneri No 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 Perché Mi dia una mano Mannaccia a lei Ce so far tutto io E lei si prende il bottino Ma ci può Ma ci può Ma ci può Wow Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla no un altro martello ma basta aiuto ma si può un altro martello aiuto venghi qua ma io una sfida una sfida allucinante un altro arco va bene un'armatura cosa me ne faccio io smonto tutto riciclo ho trovato un altro arco io madonna se sto correndo come mai ma voi siete malati mentali no questo l'affronta lei non io è grossissimo madonna non ho frecce anzi no ne ho se no mi dà una spada unica io sclero non si può ma basta toccare a me aiuto aiuto martello forgia fulmini sii spada del ballerino finalmente madonna ringraziando gesù spada del ballerino finalmente oh già facevo più forgia fulmini ho trovato io che ho trovato io ho trovato madonna tu hai dovuto vedere di generazione da 20 aiuto c'è uno di quelli col libro via scappiamo da sta forgia sto già rotto io ma chi se ne frega dei nemici scappa vittària a a vittària vittària a a a a a dai un altro forziere ah tanto ormai ho trovato le cose recenti quindi una cosa che già avevo sentimi tolgo qui io ho 19 di potenza livello 17 cacchio erano andate le persone non ho guardato la caccia aia male ho scioppato un sacco oh madonna quanta roba sto trovando armatura 18 oh mio dio madonna armatura da 18 ok vediamo vai scartotto di roba vai togli 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 ma tutto roba uguale sto trovando ma hai attuato un'armatura buona no ma io ormai non compro nemmeno quelle cose sono messo bene tanti aspetta che gli udish fa il martello della gravità allora ma martello secondo me non è male ma unici due martelli unici ti lamenti che c'è due martelli unici 17 martelli tutte e due tutte e due 15 io ho 19 aspetta un attimo devo chiamare l'avvocato un secondo e arrivo subito dammi un attimo un minuto e sono qua ahio un certo mettime qua ah 1 2 3 1 2 2 ok intanto via ma non posso spostarmi nel mentre che no eh madonna quanti in ritardo nel live ma sabbia è stata davvero il tempo di solito conciugato le tracce di un non basta niente, madonna questo sarà un bordello ma non parte? no scusa eccome senti qua dice potenza di una squadra 17 e più quindi vuol dire che la possiamo fare? oh